Grazie a tutti. E se lo costruisci diverso, fa delle cose diverse, lo puoi svoltare, lo vuoi fare... Ti piace il prego? Eh sì. Eh? Oh! No, non spingere. È lì, non piantata. Questa parte qui è un lato speciale, non è saccata, capite? Non c'è. Così, così, guarda, così, così. Eh, è saccata con questo. Lo mettiamo qui, lo facciamo tornare sul tavolo? Ok. A volte mi piace lo sacco, però... eh, ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Vuoi farlo fare per terra? Ah, no. come funziona? scappa e io provo a prenderlo guarda 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 e lui scappa wow ma non si smonta tutte le volte ma forse è anche divertente che si smonta come lo messo? non ne ho controllate? poco male ma non si rocca no non dovrebbe non dovrebbe se cade basta ok si Sì Uuu è diverso da prima! Guarda un piatto! Qua sono le ruote! Wow! Dove sono finita le ruote? Quante vedi? Hai visto che sono qui sotto? Eccolo lì dove sono le ruote! Ma ti piacciono un sacco queste ruote? La luce ti piace o no? Ti piacciono più le ruote? Oh! Non lo manchi questo tuo sciolone! Facciamolo venire giù! Aspetta! Aspetta! Aspetta che ti aiuto! Eh! Lo vedi? Così non fa più niente! Eh no! Eh no! Eh no! Eh no! Vedi! Vedi che non fa più niente! Posso aiutarti? Facciamo insieme! Vuoi fare la buonaniera? Allora! Questo qua! Ah no! Non lo facciamo! Non lo facciamo! Non lo facciamo! Guarda che... No! Ok! Stai a prenderlo! Ecco! Quella è la coda! Aspetta! 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 Vittor! Mi stai facendo ubriacare! Guarda! Sono tutto girato verso il soffitto! Ah! Dove va? E' un po' di lì e un po' di qui! Come siamo qui? Come siamo qui? Bravi! Bravi! Guarda! Hai visto? Dai! Facciamolo center però adesso! Eh! No? Gira, gira! Questo è al contrario! È al contrario Vittor! Oh! Bravo! Stop! Bravissimo! Perfetto! No! Ecco! Adesso qui! Oh! chera! Buona, si? una volta... question Here... Non so quanto sia felice di te, esatto, questi scatti qua, però, scatti qua per il caloroso che si è sfidato. Sì, aspetta che si sta rompendo, bisogna fare piano. Dove? Ho bisogno dello scotch. Piano devi fare, se non si rompe. Ok, è mio? No, piccolo. Però vuoi venire qui a giocare con se esce? Oh, oh, oh.